Sanità RSA Garantire la continuità del servizio con avanzo delle quote sanitarie non spese. Approvata all'unanimità una risoluzione di iniziativa della Commissione guidata da Enrico Sostegni. Trent'anni d'arte, aperta la mostra di Paolo Gennaioli. La rassegna nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso resterà aperta al pubblico fino al 17 dicembre. Garantire la continuità del servizio RSA impegnando le quote sanitarie, in totale 206 milioni di euro l'anno, erogate dalla Regione che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo. È quanto chiede la proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità guidata da Enrico Sostegni e approvata dal Consiglio regionale con voto unanime. Nell'atto di indirizzo si impegna la Giunta a ripensare il modello organizzativo delle RSA anche all'interno di un contesto più generale di residenzialità assistita con formule moderne di vita in comunità. Dopo l'audizione di tutti i rappresentanti del mondo delle RSA e della cooperazione è uscita un elemento chiaro e cioè che una pluralità di fattori, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid hanno generato una situazione di forte sofferenza per le RSA che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione, nella normativa, ma c'è bisogno anche di un aiuto economico perché oggettivamente se no tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari e quindi per noi chiediamo alla Giunta di prevedere un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Certo il tema è almeno quelle che erano stanziate per le quote sanitarie potrebbero essere un elemento dal quale partire se sono rimaste risorse poi a fine anno per contribuire. Comunque il dove vengono prese le risorse attiene più a un elemento di gestione indichiamo questo elemento perché c'è stato indicato anche nell'audizione a parte dell'assessore dopodiché sarà oggetto di una scelta della Giunta, l'importante è che arrivi un aiuto concreto velocemente. Io penso che il sistema sarà oggetto di un'importante trasformazione anche nella differenziazione dei livelli assistenziali cioè noi abbiamo bisogno di un'offerta di RSA molto diversificata, in parte già lo è, dalle basse intensità a quelle con più alta integrazione sanitaria e intorno a questo anche rivedere il sistema delle rette, integrarlo con tutti i servizi del territorio e d'altronde l'assessorato sta svolgendo una serie di tavole insieme ai gestori, lo hanno confermato anche loro stessi proprio per analizzare questi aspetti. Così come un altro elemento che noi abbiamo più volte sottolineato è quello di una programmazione dei nuovi investimenti in RSA che deve essere strutturata perché altrimenti noi avremo una regione che è infrastrutturata secondo scelte un po' schizofreniche mentre noi abbiamo bisogno che tutto il territorio sia coperto e con servizi che sono differenziati. Serve rispetto di un ruolo straordinario che fanno le RSA nei territori noi siamo stati come Italia Viva i primi a depostare un atto a sostegno delle RSA i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze chiediamo di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo ma chiediamo di fare di più anche in termini economici una risoluzione di buonsenso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto è evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione ma non solo di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico il sistema è fragile e siccome all'interno dell'RSA si dà risposta ai fragili chi è solido e la regione toscana deve dimostrare di essere solido deve essere messo nelle condizioni di aiutare chi è più debole e chi soprattutto come il terzo settore, il mondo del volontariato, le ASP pubbliche ma anche quelle private ovviamente che svolgono questo lavoro e questo servizio che io definisco svolgono un lavoro straordinario l'abbiamo visto nell'esperienza Covid se non ci fosse stato il filtro dell'RSA oggi avremmo avuto altri dati anche rispetto ai morti dell'emergenza Covid Facciamo chiarezza nel senso che la Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per l'RSA alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo nel senso un positivo di 27 milioni 30 milioni all'incirca e questo è ciò che le residenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni da questo siamo ripartiti mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da appunto Covid hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat questo è alle base di tutto dopodiché certo si cercherà e ci auguriamo che il Governo possa dare e stanziare più fondi proprio perché questo è comunque una nazione che invecchia sempre di più ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi ma anche le persone che si rimangono poi dotate da sole bisognerebbe fare una cosa semplicissima prendere atto che la Regione Toscana da 15 anni a questa parte non rivede la quota sanitaria mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in RSA siano un po' differenti negli ultimi 15 anni forse le spese sono un attimino aumentate e la Regione Toscana non rivede la quota sanitaria quindi il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto è un documento che chiede giustamente è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico su qualunque punto chiedere soldi al governo quindi chiede giustamente un impegno del governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA il governo ha previsto di questo se ne sono dimenticati non l'hanno scritto nel documento gli chiederemo di inserirlo noi che il governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ha i costi energetici non ha inserito l'RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare quindi è giusto chiedere che vengano inseriti come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana rivede la quota sanitaria perché è troppo facile non far niente per 15 anni aspettare che l'RSA giustamente sottolineo giustamente ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire quando invece un anno fa, un anno e mezzo fa eravamo tutti sperticati in grandi elogi, ringraziamenti alla grande rete dell'RSA Toscana che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid poi quando chiedono aiuto dire ok chiederemo soldi al governo no, la Toscana riveda la quota sanitaria che è ferma da 15 anni poi tutti insieme giustamente chiederemo al governo di impegnarsi anche per sostenere e per aiutare l'RSA a fare fronte al caro energia Parlare oggi di denaro che può avanzare alla Regione è sicuramente rischioso perché in realtà i problemi che si trascinano la sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno dell'RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta quindi la Regione deve intervenire deve intervenire organizzativamente innanzitutto perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte in buona parte è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema insomma la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo di carattere economico ma anche di carattere organizzativo sicuramente un'iniezione di denaro per cercare di arrivare a coprire le quote è fondamentale anche un cercare di garantire maggiori risorse a tutte le RSA dal punto di vista del personale è fondamentale e un'attenzione un monitoraggio a quelle che sono le situazioni che si definiscono man mano nei singoli istituti 30 anni d'arte è un viaggio nell'esperienza artistica di Paolo Gennaioli la mostra ospitata nello spazio espositivo Ciampi si è aperta mercoledì 7 dicembre e ricorda la lunga produzione dell'artista che incarna il profilo del pittore poeta ed è attivo nella scena artistica sia nazionale che internazionale con mostre itineranti personali e collettive da Roma a Toronto da Firenze a Washington nel catalogo il presidente Antonio Mazzeo ha sottolineato come il consiglio regionale della Toscana abbia reso il doveroso contributo all'opera trentennale di un pittore che si è affermato da anni nel panorama artistico nazionale Paolo Gennaioli toscano di Pieve Santo Stefano ma fiorentino di adozione ha amato profondamente questa città e come ricorda Mazzeo ne ha colto lo spirito più intimo è nata appunto perché sono passati trent'anni da quando ho iniziato nel 1990 e poi la pandemia ha posticipato di un anno ed è cominciata con con Napoli la curata Tessi Sembiante e poi l'abbiamo portata sempre nel 2021 ad Arezzo ed ora ed ora qui beh io sono nato autodidatta quindi racconta una scoperta un principio un inizio così improvviso io dovevo io venne a Firenze che in Via Alfani alla scuola di recitazione di Paolo Coccheri e e fece una rappresentazione una recita a Cestello con Sergio Ciulli e Marcellina Ruocco e dovevo farne un'altra ma ma non non era la vita mia e e quindi cominciai con la vittura nei locali della ex Galleria Forlay in Burgola Croce è un anno e mezzo che portiamo avanti questo progetto perché quando lui mi ha contattata per metter su il suo trentennale abbiamo deciso insieme che non volevamo una mostra fine a se stessa in un luogo e lì finiva abbiamo pensato invece a una mostra itinerante che infatti è partita dalla mia città io sono napoletana e Paolo ha voluto venire e diciamo debuttare a Napoli proprio come palcoscenico perché Paolo io nel catalogo lo definisco la rock star è molto vicino come spirito a Napoli ai napoletani quindi si sentiva molto vicino allo spirito partenopeo e il comune di Napoli ha fatto suo il progetto di Paolo e quindi ha dato la casina Pompeano per l'inaugurazione di questo trentennale che è partito da Napoli dopodiché siamo stati accolti ad Arezzo poi è andato a Milano insomma è stato un trentennale che ha girato un po' tutta Italia che era il nostro progetto era quello di portare l'arte di Paolo Giannaioli in giro per l'Italia e però importantissimo per noi e oggi siamo felicissimi a prodare a Firenze a pirare a casa siamo tornati a casa perché Paolo ha le sue radici fortissime qui l'ho visto sbocciare l'ho visto nascere è un ragazzo che ha esordito praticamente con me con suo suocero un ragazzo particolare ma molto dotato da un punto di vista artistico questa mostra lo testimonia è una mostra complicata per chi non conosca i valori della pittura ma una mostra che certamente eleva lo scenario contemporaneo decaduto a soglie miserevoli per chi non conosca per chi non conosca Grazie a tutti.